Voglio anche dedicare per quello che posso questa conferenza stampa di fine d'anno. Il governo è nato il 28 di aprile e quel giorno il 28 di aprile con la nascita del governo una sparatoria davanti al Palazzo Chigi cambiò la vita di una persona e questa persona il brigadiere Giangrande è una persona che ha visto la sua vita menomata per la difesa delle istituzioni. Voglio rivolgergli da qui un saluto molto caro e molto affettuoso e voglio esprimere un concetto che è appunto quello per il quale la difesa delle istituzioni è un valore, la difesa delle istituzioni è il valore al quale ognuno di noi deve far riferimento e soprattutto le istituzioni sono un valore. Ognuno di noi svolge un compito per le istituzioni in questo tempo le istituzioni sono troppo spesso viste non per quella centralità che esse devono avere.